C'era anche un po' di Vallo di Diano a San Marino per il San Marino Cup 2022, il campionato internazionale di pesistica promosso presso la palestra di Fonte dell'Ovo a San Marino e che ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da paesi esteri, oltre a comitati regionali italiani. Un torneo che ha visto la vittoria del comitato, la cui squadra è allenata da un valdianese, Andrea Gentile, di Sala Consilina e con in squadra altri due giovani salesi, Roberta Tommasiello e Antonio Sabatino. La squadra, allenata dal coach Andrea Gentile, partecipando al campionato per il comitato regionale FIPE Lazio nella gara internazionale di pesistica squadre, si è giudicata il primo posto trionfando alla grande al San Marino Cup 2022 e superando le squadre provenienti da Svizzera, Monaco, Israele e San Marino, i comitati regionali di Toscana e due dell'Emilia Romagna. Un importante successo per tutta la squadra composta da sei atleti, quattro di Roma e i due valdianesi, allenati dal salese Andrea Gentile, che è riuscita ad ottenere il punteggio maggiore nelle diverse performance. La sfida a squadra infatti prevedeva l'assegnazione di un punteggio per ciascun atleta e la somma del punteggio ottenuto dai giovani atleti appartenenti a ciascuna squadra avrebbe portato alla definizione della classifica nel torneo a squadre. Tutti eccezionali i giovani atleti del Comitato Regionale Lazio, che ottimamente allenati dal coach salese Gentile, sono riusciti a dominare la competizione e a raggiungere la vetta del podio aggiudicandosi il primo posto. Un importante risultato che inorgoglisce il Vallo di Diano, fiero dei suoi giovani, che lasciata la loro città d'origine per lavoro e per studio, nel tempo libero si sono dedicati allo sport e allenandosi costantemente con dedizione a Roma, sono riusciti ad emergere nel Comitato Regionale Fipe Lazio con Andrea Gentile, che è stato scelto come allenatore della squadra, e i due giovani valdianesi, Roberta Tommasiello e Antonio Sabatino, come componenti del gruppo, che è stato chiamato a rappresentare la pesistica laziale al San Marino Cup 2022. Una fiducia ben riposta nel gruppo, visto il notevole risultato, che portando in alto i colori del Lazio, esalta anche il Vallo di Diano e Sala Consilina, terra d'origine dei giovani vincitori della competizione internazionale di sollevamento pesi. Soddisfatto ed entusiasta dei suoi ragazzi, Andrea Gentile, sicuramente, commenta, è uno sport dove ciascuno si misura con i propri limiti da solo, ma il lavoro di squadra, l'affinità, la correttezza che si traduce in professionalità sportiva, ci ha reso vincenti a 360 gradi.